Preghiera per i matrimoni spezzati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo il raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. Oh luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpo. Lava ciò che è sortito, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguino, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelito, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Dio Onnipotente, ti prego per tutte le coppie e i matrimoni spezzati, per tutti i conugi sopraffatti dall'orgoglio e dalla gelosia, che soffrono in silenzio per amori ancora grandi, e sentono l'insostituibile mancanza l'uno dell'altro. Signore buono e misericordioso, fa che prendano coraggio e abbandonando ogni rancore e dolore, si volgano l'un verso l'altro, per prendere la decisione giusta, per tornare uniti. Riaccendi il loro amore, che già c'è, cambia l'orgoglio, la rabbia e la gelosia, in fiducia, rispetto reciproco e amore immenso, soprattutto nelle famiglie dove vi sono bambini piccoli e grandi. Dio grande, riunisci e opera il loro, un miracolo immenso, come nelle nozze di cana. Nascondi questi uomini e queste donne che hai unito un giorno, nelle tue piaghe benedette. Te lo chiedo per i meriti di Gesù e per il tuo santissimo nome. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.